Ciao a tutti voi da Rossi, benvenuti a questa nuova trasmissione della nostra vetrina dell'auto. Oggi io e Alberto in Elite Car siamo separati per lasciare spazio a questa splendida vettura. A te Alberto. Però c'è una vettura bellissima in mezzo tra me e Rossi, di cui poi andremo a parlarne. Quindi prima di iniziare con la puntata di questa sera vi ricordo che Elite Car si trova a Magenta, in corso Italia 40. Veramente facile da raggiungere se prendete la Milano Torino, uscita a Marcallo Mesero e ci trovate più o meno a 5 minuti appunto dall'uscita autostradale. Prima comunque di continuare vi ricordo un'importante novità, Elite Car ha aperto anche una sede a Olbia, nella zona industriale settore 5, quindi le stesse vetture che troverete in Elite Car a breve le potrete trovare anche per i clienti della Sardegna. Quindi questa era una cosa molto importante. Detto questo partiamo subito con la novità, classe C Coupé. Finalmente Mercedes ha presentato sabato scorso una vettura nuova innovativa che entra come segmento Coupé, quindi la piccola Coupé di casa Mercedes con motorizzazioni che vanno da un 2.000 diesel da esattamente 170 CV e sempre un 2.000 diesel biturbo da 204 CV, trazione posteriore. Poi per le motorizzazioni benzina abbiamo un 1.600 da 156 CV, un 2.000 da 184, 211 e 245 CV e poi vabbè c'è la versione super sportiva denominata con la sigla AMG da 476 o 510 CV. I prezzi di questa vettura vanno a partire da 38.448 euro. Quindi signori, una macchina da scoprire, da provare, sempre legato a finanziamenti e premi permuta, ricordatevi tassi agevolati per finanziamenti e leasing e supervalutazione del vostro usato. Quindi signori, venite in Itcar perché classe Coupé vi sta aspettando. Cominciamo la carrellata di occasione di questa sera parlandovi subito di classe A, la nostra ormai vettura che conoscete tutti, bella, sportiva, innovativa e molto attuale. Motorizzazioni, 1.600 benzina da 122 e 156 CV e 2.000 benzina da 211 CV. Motore diesel, 1.500 diesel da 90 e 109 CV, discorso 90 CV anche per neopatentati. Passiamo alla motorizzazione superiore diesel, 2.000 da 170 CV. Queste sono le motorizzazioni in classe A previste. Per quanto riguarda gli allestimenti ce ne sono tre, modello Executive Style, Sport e Premium. In questo caso abbiamo un aziendale Premium, quindi questa vettura per esempio ha già Fireloxeno di serie, cerchio da 18, la trazione vi ricordo è anteriore, Collision Prevention Assist che è un sistema Ardardar multicollisione, quindi praticamente previene la collisione in base a un sistema elettronico che va a calcolare la distanza della vettura che vi precede. Quindi signori, questo è molto importante per quanto riguarda la sicurezza. Dopodiché abbiamo un interno misto pelle e microfibra, volante sportivo con parte piatta, in questo caso anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Quando parliamo di sensori di parcheggio ricordatevi che Mercedes dà anche il parcheggio assistito, quindi voi lasciate lo sterzo e comodamente la vettura parcheggia in automatico. Climatizzatore automatico, autoradio con Bluetooth telefonico integrato, presa USB, navigazione, possibilità anche di cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. Quindi vetture veramente complete, vi ricordo aziendali provenienti dalla fabbrica con pochissimi chilometri e terzo e quarto anno di garanzia, molto importante, perché noi scriviamo 48? Perché su una macchina nuova voi sapete che se non andate a estendere eventualmente a pagamento la garanzia ufficiale, vi danno i 24 mesi di garanzia. Quando abbiamo 48? Perché? Perché Elite Car va a estendere la garanzia del terzo e del quarto anno a partire ovviamente dalla prima matricolazione. Quindi vi verrà una copertura, sempre a partire dalla prima matricolazione della vettura, di 48 mesi, usufruibile in tutte le concessionarie ufficiali Mercedes-Benz. Quindi non è detto che se poi prendete, ci auguriamo, venite da noi a fare tagliandi e così via. Però se anche siete fuori zona, la garanzia Mercedes risponde. I prezzi a partire, veniamo diciamo alla cosa che ci interessa anche di più tante volte, prezzi a partire da 18.900 euro più spese di passaggio, possibilità di finanziamenti anche a tasso zero, leasing e eventualmente supervalutazione del vostro usato. Quindi signori, una copertura o comunque un'offerta totale su questo prodotto. Quindi parliamo di classe B, motorizzazioni le stesse analoghe di classe A, quindi diesel e benzina, partenza diesel, 1.500, 109 cavalli, possibilità anche per neopatentati, con motorizzazione da 90 cavalli. Invece per quanto riguarda il motore benzina, 1.600, da 122 cavalli. Vetture provenienti dalla fabbrica con pochi chilometri, quindi in utilizzo dipendente Mercedes, con estensione anche in classe B di garanzia, terzo e quarto anno. Quindi vi ricordo, una copertura totale in tutti i punti ufficiali Mercedes per 4 anni a partire dalla prima matricolazione. Possibilità appunto di supervalutazione del vostro usato, finanziamenti, leasing e eventualmente anche un tasso zero. Possibilità anche di fatturazione al 4% per chi avesse l'IVA agevolata con legge 104. Vari colori e disponibilità per appunto in motori e colori in fabbrica. Quindi riusciamo, anche se venite nel lit car, non c'è la vettura che in questo momento state cercando, riusciamo a procurarvi la macchina nel giro di 15-20 giorni circa. Detto questo, i prezzi di partenza da classe B vanno da 19.800 euro più le spese di passaggio. Ed ora vi parliamo di classe GLA, il nuovo crossover di casa Mercedes. Possibilità di motorizzazione 1.500 e 2.000 diesel o 1.600 benzina e 2.000 benzina con varie potenze. Cambio automatico, cambio manuale, trazione anteriore o 4x4. Vettura veramente innovativa a partire da 28.590 euro. Anche qui tassi agevolati per quanto riguarda finanziamenti, leasing e supervalutazione del vostro usato. Ed ora parliamo di classe CLA, disponibile sia a versione coupé e shooting brake. Pochissimi chilometri, vetture aziendali coperte ancora da garanzia Mercedes-Benz. Supervalutazione del vostro usato, possibilità di finanziamenti a leasing. Prezzi a partire da 25.900 euro più spese di passaggio. Ricollegandoci alla classe C coupé, la prima vettura che vi abbiamo presentato questa sera, ovviamente la famiglia C prosegue con la versione station wagon o berlina. Allestimenti disponibili, executive, exclusive, altrimenti sport o premium, come quella che state vedendo. Tutte vetture aziendali con pochissimi chilometri, un anno di vita circa. Sempre coperte da garanzia terzo e quarto anno Mercedes-Benz, che vi ricordo Elite Car va ad estendere quando vi consegna la vettura. Ripeto, pochi chilometri, vetture che si possono linsigare, finanziare. Supervalutazione del vostro usato. Prezzi veramente fantastici a partire da 28.900 euro. Motorizzazione disponibile benzina e diesel. Tenete conto, versione diesel 170-204 cavalli. Versione benzina 156-184-211 cavalli. Vari colori e versioni allestimenti. Cambio manuale o cambio automatico. Quindi anche in classe C venite a trovarci perché Elite Car sicuramente troverà le risposte alle vostre esigenze. Ed ora passiamo a parlarvi di classe E. Disponibilità in Elite Car, vetture aziendali con pochissimi chilometri, anche su classi E, proveniente dalla fabbrica tedesca. In versione berlina o station wagon, in varie motorizzazioni, benzina e diesel. I prezzi di partenza di queste vetture vanno da 31.900 euro più le spese di passaggio. Supervalutazione per il vostro usato ed eventualmente sono macchine quindi che si possono disingare o finanziare. O parzialmente o totalmente, perché no? Vorrei, prima di andare oltre, vorrei anche comunque specificare una cosa. Siccome Elite Car si distingue per essere un'azienda trasparente, Quando noi parliamo di prezzi a partire è normale che parliamo del prezzo, in questo caso motorizzazione e benzina, ma perché di solito il benzina costa qualcosina meno del diesel. Quindi i prezzi di partenza vanno per il benzina, poi c'è qualcosina in più che si spende per il diesel. Però è giusto dirlo in televisione perché, ripeto, l'immagine di Elite Car vuole essere trasparente verso il cliente, senza nessun tipo di problematica. Poi quando uno viene qua, perché tante volte un cliente viene qua e mi dice ma lei parla di prezzi a partire da, è normale, parlo del prezzo più basso, però con un piccolo incremento potete avere il diesel. Quindi era giusto, prima di andare oltre, specificare questa cosa. Ed ora continuiamo a parlarvi di Mercedes, ma passiamo a classe GLC, ultimo SUV di casa Mercedes, presentato qualche mese fa, una vettura veramente innovativa, bellissima e molto attuale. Macchina, vettura che porta motorizzazioni 2000 diesel da 204 cavalli, 170 cavalli e un benzina da 211 cavalli, tutte a quattro ruote motrici e cambio automatico di serie. Allestimenti presenti attualmente Executive Sport e Premium. Possibilità ovviamente di personalizzazione sulle vetture, colori, accessori, tetto apribile, insomma qualsiasi tipo di accessorio può essere installato. Per quanto riguarda invece le valutazioni del vostro usato, esiste un premio permuta collegato al nuovo, perché non siamo ancora in grado di proporvi la vettura aziendale, in quanto è una vettura che ha pochissimi mesi di vita. Quindi il giro dell'aziendale non è ancora stato creato, ma sicuramente in seguito saremo in grado di proporvi anche il prodotto aziendale GLC. Detto questo, ricordo la supervalutazione appunto del vostro usato, in quanto ci sono dei premi permuta. un tasso di interesse agevolato per quanto riguarda l'easing e i finanziamenti. Quindi signori, venite in Elite Car perché anche sulla gamma GLC serve in grado di rispondere alle vostre esigenze. Dimentico la cosa più importante, prezzi a partire da 47.940 euro. E prima di passare ai saluti finali, vi ricordo che in Elite Car troverete anche modelli smart, precedente restyling, 4.2 o 4.4, aziendali con pochissimi chilometri, a partire da 8.900 euro più le spese di passaggio. Sia a cambio manuale per quanto riguarda il modello nuovo, sia a cambio automatico per quanto riguarda il modello precedente restyling. Prima dei saluti, vi ricordo che Elite Car non è solo vendita nuovo, usato e aziendale, ma è anche un service ufficiale Mercedes-Benz e Smart. Quindi signori, non solo vendita ma anche un servizio a 360 gradi. Quindi carrozzeria, noleggio e tutti i servizi ovviamente per l'automotive. Quindi prima dei saluti, passo la palla a Rosi. Certo, ecco ricordiamo una cosa, ne parlavamo prima Alberto, queste vetrine sono registrate, per cui capita a volte che i clienti arrivino e non trovano magari la vettura questa specifica che hanno visto in questo momento, in questo colore, però voi potrete ovviare. Assolutamente sì. Quindi la vettura, se anche non trovate quella specifica, naturalmente c'è l'opportunità di sceglierla proprio del colore che volete e in pochissimo tempo sarà qui a vostra disposizione. E a proposito di registrazione, vorrei ricordarvi una cosa importante, da oggi potrete seguirci anche su www.autodelgiorno.tv. Vedrete il nostro magazine, quindi tutte le offerte, in questo caso di Elite Car, stampate, pubblicate e cliccando sulla pagina, in questo caso dedicata ad Elite Car, avrete l'opportunità di rivedere, vi rimanderà un link, di rivedere questa trasmissione. Per cui se vi è sfuggito qualcosa, se volete farla vedere a qualche persona della vostra famiglia per scegliere la vettura, ecco, lo potrete fare anche attraverso questo strumento. Grazie Alberto, grazie Rosy e grazie a tutti voi. Buonasera a tutti.